Attacca Iron Man! Attacca! L'ho ucciso! E ciao a tutti ragazzi sono Mattizio e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite è arrivato un nuovo esperimento con Lollopollo oggi mio caro Lollo proveremo a far incontrare Iron Man con il nuovo boss della mappa Wolverine sarà complicatissimo te lo dico perché oltre al fatto che noi siamo un pochino nabetti i boss sono fortissimi e noi dobbiamo essere molto rapidi e mi hanno rubato l'arma, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo Iron Man! Eh vabbè, eh ok, bene, mi sembra tutto molto tranquillo no? C'è Iron Man qui! Lollo con la fiocina contro Iron Man non mi sembra la cosa... Tu sei un pazzo scatenato Tu sei un pollo scatenato Oh mio dio ragazzi questo è il salvataggio più assurdo che io abbia mai visto Aspetta, ok Ragazzi Come? Come? Voi non mi piace solo per questa azione di Lollopollo Mi raccomando ricordate di utilizzare il supporto a un creatore Mattiz Per tutta questa season 4 dobbiamo raggiungere le 100.000 persone che mi supportano Entro la fine della stagione 4 Ce la posso fare solo grazie al vostro supporto Controllate bene che il mio supporto a un creatore ci sia ancora 10 di vita perché ogni 14 giorni vi si toglie Ragazzi siamo in 3 a spararlo Lollo c'è un altro tizio che lo spara È morto Aspetta Oh mio dio Attenti a quello Aspetta, aspetta, aspetta Lo porto da uno scagnozzo Lo porto da uno scagnozzo Oh no ci hanno rubato la macchina Oh mio dio Cosa facciamo Lollo? Cosa facciamo? Tu farai una brutta fine Oh no sono morto io Avevo 10 di vita Ok non è stata proprio la miglior partita Però la prima partita abbiamo già preso Iron Man Questo è un buon inizio La cosa divertente Lollo è che tra l'altro non possiamo neanche provare a prendere Wolverine E portarlo da Iron Man Perché Wolverine si rianima da solo E ci distruggerebbe Quello è un piccolo problema Dobbiamo risolvere in qualche modo Io ho un pompa Oh un nemico da me Ok colpito Non ha più vita È sceso di sotto È scappato via È scappato via È scappato via Vabbè non ci interessa Oh ma mi spara lo scagnozzo Ma levati scagnozzone Ok perfetto Apro una cassa e arrivo subito C'ho Oh arma leggendaria Ok let's go Let's go Let's go Andiamo a trovare Iron Man Secondo me sta qui sotto Precisamente sotto di noi Arrivo Spacchiamo Tanto rumori molto brutti Ok non mi sembra di vedere nessuno di qua Neanche nessun altro di qua Ah ma c'è un altro piano Aspetta Oh no Guarda Cosa C'è tanta gente C'è davvero troppa gente Nemico da me Atterrato Ma dov'è Iron Man? Oh mio dio Di qua Un altro nemico Atterrato anche lui Lollo sono in difficoltà Lollo sono in difficoltissimo Mi sparano Lo vedo scarsino Vai 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 Sparalo Grande Lollo Non aveva armi Poverino E questo qua invece dov'è il suo nemico? Anzi il suo alleato Diteci dove siete Vi state facendo impazzire Abbiamo ucciso tutta la lobby Praticamente No Lollo Guarda un po' qui Guarda un po' qui Hanno fatto Fuori Iron Man Dobbiamo vendicare Dobbiamo vendicare Iron Man Facciamo fuori tutti quelli che ci sono in sta lobby E poi quittiamo direttamente Oh mio dio Da dove? Arrivo 90 Eccolo No ma dov'è? Eccolo un altro da me Stiamo ballando Ok Sta fuggendo Grande Lollo Ora arriva l'altro da sopra Mi ha ucciso Mi ha ucciso Va bene Va bene Ho capito Questa non sarà neanche la nostra partita Eh non ci credo Guarda quanti nemici No Lollo Ma come facciamo ora? Eh io non so se riesco con tutti questi nemici Eh vediamo Aspetta sto sparando un pezzo di terra Lo sto prendendo col piccone Ok eliminato Posso scendere Vabbè dai A parte gli scherzi Stiamo nei server privati Per riuscire a completare l'esperimento Ci abbiamo provato nelle partite normali E da come avete visto È molto complicato Perché facciamo fuori tutti i nemici E poi Iron Man muore Quindi non riusciamo mai a portarlo A foresta frignante Che comunque è lontano Quindi dobbiamo fare un percorso molto preciso E soprattutto sperare di trovare Wolverine Che va sempre in giro per la mappa Per i cavoli suoi Lollo sarà probabilmente uno degli esperimenti Più complicati che abbiamo mai fatto Te lo dico eh Perché davvero Oltre a prendere Iron Man Dobbiamo cercare anche Wolverine Che è addirittura impossibile Sì dico Se riusciamo a trovare Wolverine Sarà veramente pazzesco Come cosa È vero È vero È vero No ragazzi Se ci riusciamo voglio almeno 30.000 mi piace Ora però Cerchiamo prima Iron Man Che io sinceramente non l'ho neanche sentito ancora Che è fuori Cioè è fuori C'è Iron Man? Sì è fuori sul balcone Io non l'ho neanche visto Dov'è? Qui Iron Man Iron Man È sopra? Sì Ah aspetta che non ho materiale Vengo con te Oh mio Dio Muoio dagli scagnozzi Scagnozzi potete evitare di rompere le scatole per favore Stiamo facendo una missione ok? Non abbiamo troppo tempo Allora Eccolo Iron Man Ma guardalo come corre Come facciamo? Cioè atterro qui Dai prova No 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 Uuuuh Che schivata È sceso È sceso Ok Ok l'abbiamo portato fuori L'abbiamo portato fuori Non male lo sparo Lo sparo Ah Non ho materiale Non ho materiale Non ho materiale Attento Lollo Attento Hai ucciso 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 Vai Ok Ok Vado 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 Ah c'è uno scagnozzo Non riesco a prenderlo L'ho preso Andiamo 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 Io non ho legno per il falò Io non ho legno per il falò Io non ho legno per il falò Lollo Ok Ok Nessun problema Nessun problema Abbiamo preso Ufficialmente Iron Man E lo stiamo portando da Wolverine Per vedere se Cosa succederà Wolverine sarà un alleato di Iron Man E lo curerà Oppure no Secondo me Wolverine Sarà molto prepotente con Iron Man E lo prenderà con i suoi artigli E lo distruggerà Non so perché ho questo presentimento Secondo te Anche secondo me Farà una cosa pazzesca E lo ucciderà in un modo stranissimo Tipo Sì è vero Poi se lo cura ragazzi Se lo cura sarà assurdo Non lo so Non lo so Non lo so Non voglio spoilerare Via Andiamo 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 Oh yes Oppure Oppure Succede il casino clamoroso E spunta pure Doom E tutti e tre diventano amici E diventano compagni di squadra E fanno la vittoria reale E ci uccidono Ti immagini Ok Ringraziamo Lollopollo Che conosce il percorso a memoria Per arrivare ovunque No No Ho perso Iron Man No Ho perso Iron Man Iron Man è stato portato letteralmente via Tieni No Aspetta Ok vai 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 Corri 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 Cioè L'elicottero mi ha buttato via Iron Man Lollo L'elicottero sta andando via Non ci voglio credere Iron Man Tenta la fuga con l'elicottero Mentre noi lo portiamo da Wolverine Non lo so Tipo al telegiornale Comunque Prendi l'elicottero Che se ne sta andando via È stato assurdo ragazzi Ok Andiamo Grande Lollo Ottima strategia questa No Si è spento Ok vai vai Ci sono Ci sono È scomparso Iron Man Lollo mi si è bagato Iron Man Sta lampeggiando Cosa sta succedendo? No io lo vedo tranquillamente Oddio mi si è bagata la schermata ragazzi Guardate Cioè sembra tipo che cade di sotto Ora è scomparso letteralmente Ora è scomparso Nella mia schermata non c'è più Iron Man Lollo Vai Sono abbastanza sicuro che tu ce l'abbia Ma io non lo vedo più Dove ti farò Manca poco Ok rivedo No No Mancava pochissimo Non ci credo Ma mi si è bagato tutto Rieccolo qua il nostro Iron Man Ho dovuto chiamare rinforzi È arrivato anche Traster Che ha avuto il compito per tutta la partita Di tenere d'occhio Wolverine Perché se noi arriviamo a foresta frignante Poi Wolverine non lo troviamo È un casino Ve lo giuro non è mai stato così difficile Fare un esperimento dei nostri È passata circa un'ora Perché ogni volta ci sono stati dei problemi Ma questa volta ce la dobbiamo Assolutamente fare Assolutamente fare Traster che sta facendo Wolverine Eh Cammina lentamente Ok È nella zona dove ti vedo a te In alto È nel ping È nel ping Dobbiamo andarci Dai 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 Coraggio 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 Sta andando in safe Ok Bravo Va in safe 400 metri Lollo cosa faccio secondo te? Cioè? Eh Aspetta no Effettivamente è vero Non ho fatto la domanda Eh Cosa faccio? Cioè tipo scendiamo e lo lancio? Eh Per forza Come facciamo se no? Ok Sento i passi Lollo inizia a scendere Lo vedo Scendi Scendi Dov'è? Eccolo Eccolo Lo lancio? Vai Tieni Wolverine Wolverine Aspetta aspetta Non entrarei troppo vicino Levati Ok Oh No 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 Va verso di me Perché non attacca Wolverine? Perché non attacca Iron Man? Attacca Iron Man Attacca L'ho ucciso L'ho ucciso Ragazzi l'ho ucciso Ragazzi l'ho visto con i miei occhi L'artiglio di Wolverine ha colpito Iron Man Ve lo giuro Ve lo giuro Vabbè potete anche lasciarmi morire nel nulla No no voglio vedere se uccide i Mattiz Oh ma come ti permetti Io sono il super eroe e nessuno mi fa fuori Oh Davvero e nessuno mi fa fuori Guarda Sto bloccando Oh no Ahia Eh ora mi ha preso Eccoci qui nel replay Allora c'è Wolverine che passeggia molto tranquillamente Qui ci vede Prende i suoi artigli Però al momento non ci fa niente Anzi no Puscia a me Mi colpisce e mi fa pure male Qui corre Ecco Iron Man Colpisce colpisce ma non muore Ragazzi Iron Man è morto da solo Non l'ha ucciso Wolverine Io pensavo l'avesse fatto fuori Wolverine Invece l'artiglio che ha dato L'ha dato a vuoto Vuoto No ci crede Si praticamente era vicino ad Iron Man Però l'artiglio che ho sentito io Perché ho sentito così E poi Iron Man è morto Quindi ho detto vabbè l'ha ucciso Wolverine Invece no l'artiglio l'ha dato tipo a me Che mi ha lisciato Invece Iron Man è tutto tranquillo e morto da solo Che dire Wolverine non uccide Iron Man Cosa molto strana Perché Iron Man invece ha distrutto il boss Doom Nello scorso video Saviano67 È l'abbonato leggendario di oggi Grazie ancora per esserci Saviano Se volete abbonarvi anche voi Trovate il link in descrizione Tutto molto ma molto strano Mi raccomando Cliccate sul video che vedete sullo schermo in questo momento Noi ci vediamo nel video che cliccherete Supporta un creatore Mattiz E passate anche dal canale di Lollopollo Ciao